E' un buon giornalista a chi favorisce la qualità della cittadinanza attiva, evitando che i cittadini diventino sudditi o naufraghi. E' un passaggio dell'intervento di Ferruccio De Bortoli, già due volte direttore del Corriere della Sera, poi del Sole 24 Ore, oggi presidente della Casa Elettrice dei Longanesi e dell'Associazione Evidas di Milano, che ha ricevuto oggi il Premio Nazionale Ibratola, aggiunto alla settima edizione, organizzato dall'Associazione Futile Utile, presieduto alla Pierpaolo Bellucci, ideata dal padre Egno Bellucci, giornalista e anima del premio, come l'ha definito Imperia Liberatore, che ha affiancato Bellucci padre nella conduzione. Inizialmente quelli come me, della mia generazione, anche un po' prima, hanno avuto difficoltà. Bisogna adeguarsi o ritirarsi, diceva un famoso adagio, bisogna adeguarsi, conservando però sempre quel pizzico di anzianità, non di vecchiezza o di vecchiai. Ecco, è la saggezza, i capelli bianchi molto spesso, ma non sempre, sono sintomo anche di saggezza. Ecco, giornalismo ai tempi di internet, in era digitale, lei sa che tutti si improvvisano giornalisti. Il giornalista invece come può salvaguardare la sua statura professionale? Beh, intanto studiando, guardando gli avvenimenti, non stancarsi mai di porsi delle domande, di avere il coraggio anche di andare controcorrente, di non essere mai soddisfatto e di non avere mai la presunzione di possedere la verità. Così è intervenuto De Bortoli al fianco del presidente dell'Ordine giornalista di Abruzzo, Stefano Pallotta, Nicola Marini, già presidente dell'Ordine nazionale. Con De Bortoli sono stati premiati anche lo storico vignettista e caricaturista del quotidiano abruzzese Il Centro, Franco Pasqualone, che ha ricordato di aver iniziato per caso la sua collaborazione con il giornale ai tempi del direttore Carlo Pucciarelli, ma anche Maria Assunta Palombizzo, imprenditrice agricola di Pratola Peligni, a titolare del marchio Olio Rosso d'Alessandro. Al premio nazionale sono intervenuti fra gli altri il sindaco Antonella Di Nino e il sottosegretario dell'Aggiunta regionale Mario Mazzocca e il consigliere regionale Mauro Febbo. Sicuramente è stato un motivo di grandissimo orgoglio. Non è cosa semplice, insomma, assistere a lezioni di questo tipo. C'è un pensiero che mi ha colpito particolarmente del direttore, allorquando ha detto il giornale, il passaporto che ci fa volare lontano. Dentro questa frase c'è un'immensa cultura, un pensiero profondissimo, volto ovviamente ad un auspicio che è quello di allargare le nostre vedute attraverso la cultura, attraverso la lettura. Ad alietare il pubblico ci ha pensato l'applauditissima Chiara Tarquini.